Come mai questa iniziativa? Beh, questa iniziativa è tesa affinché la gente a Vittoria si renda conto del problema delle barriere architettoniche, cosa significa in effetti inaccessibilità. Abbiamo messo due carrozzine a disposizione della gente che vogliono provarle, giusto per fargli vedere cosa significa inaccessibilità a Vittoria. Voi pensate di riproporre questa iniziativa? Probabilmente, sinceramente, però io spero che questa iniziativa non sia un flop che serva a scuotere gli animi della gente e degli amministratori affinché questo problema venga risolto, come è già successo per la manifestazione di un paio di domeniche fa dal titolo provocatorio Cave Ecclesiam. Dopo qualche giorno infatti hanno già incominciato i lavori per rendere la Basilica di San Giovanni accessibile. Grazie.